buongiorno amici ma soprattutto mie carissime amiche di my own workout nel blog nel blog scusate di stamattina ritorno su un tema già trattato e torna sempre piuttosto in voga mi è stato chiesto anche da un ragazzo recentemente che mi ha commentato un video su youtube e torno quindi sul tema fartlek fartlek facciamo un po di rapida storia la parola fartlek è una parola svedese che significa speed play ovvero gioco di velocità ci sono esistono una miriade di combinazioni di combinazioni di fartlek non è applicato soltanto alla corsa ma si può applicare a qualsiasi disciplina sportiva di resistenza e remergometro spinning bike bicicletta salto con la corda è adattabile a qualsiasi esigenza e a qualsiasi tipo di atleta e nello specifico quali tipologie di tipologie di fartlek utilizzo io personalmente allora le le mie tipologie di fartlek preferite sono il mona fartlek il fartlek corto anche detto short fartlek il fartlek lungo e il fartlek a salsiccia di cui vi rimetterò il link nella descrizione e troverete anche nelle schede di chiusura allora partiamo con ordine ogni tipologia di fartlek ha il suo target obiettivo allenante specifico alla domanda a quali medie chilometriche si effettuano gli allunghi e i recuperi allora io non posso parlando in termini generici dire consigliare una persona che me lo chiede devi fare l'allungo a tot a una certa media chilometrica e un recupero in ad un certo ritmo perché ogni allenamento come continuo a ribadire e non smetterò mai di farlo va cucito sull'individuo e sulle caratteristiche personali specifiche non si può fare una tabella per 25 persone con scritto l'allungo a 3 e 10 il recupero a 4 esattamente quello che succede nelle ripetute sui mille far fare una persona delle ripetute sui mille a 3 e 10 quando corre una mezza ipotesi a 4 e 10 4 e 15 non serve a niente serve solo far stancare e portare la persona in burnout con dei lavori lattacidi inutili io vi consiglio ed è il modo in cui applico io l'allenamento e soprattutto questa tipologia di allenamento imparate a sintonizzare il vostro livello di sforzo con i segnali con le percezioni fisiche corporee che percepite il livello di sforzo che soprattutto si riesce a comprendere dal livello di sforzo respiratorio io mi baso appunto lavoro per sforzo fisico infatti si chiamano effort levels nella letteratura anglosassone per convenzione i livelli di sforzo vengono classificati in easy medium steady and hard efforts molto semplicemente è una scala facile media e pesante io preferisco basarmi orientarmi su ripeto livelli respiratori abbiamo respirazione facile respirazione leggermente impegnata respirazione impegnata e respirazione molto impegnata quindi ad esempio un mona fartlek un mona fartlek che si va a prefiggersi di andare a stimolare due tipi di sistemi anaerobici teoricamente il lattacido e la lattacido il lattacido nelle prime due nei primi due blocchi 2x90 e 4x60 è la lattacido in teoria perché poi si lavora comunque con una certa quantità di acido lattico nelle gambe il secondo blocco sono i 4x30 e i 4x15 come si vanno ad interpretare come si va ad interpretare un mona fartlek nello specifico io personalmente è un tipo di fartlek molto intenso e anche il recupero non va fatto a corsetta blanda o supplese ma bisogna ottenere un certo livello di sforzo allora io lo vado ad applicare in questo modo lo metto in pratica così negli allunghi del primo blocco del mona fartlek mi porto sempre a respirazione diciamo molto impegnata e i recuperi li faccio a respirazione leggermente impegnata che su un atleta come me potrebbe tradursi in medie chilometriche ma del tutto personali l'allungo sui 3 qui 3 12 3 15 all'incirca siamo su quei livelli di sforzo il recupero a 4 4 0 5 per rendervi un'idea su un atleta del mio della mia tipologia comunque ripeto lo sforzo va soprattutto percepito quindi io non posso dirvi fate la stessa cosa 2x90 4x60 allunghi a 3 10 3 15 recupero a 4 0 5 perché dove la respirazione leggermente impegnato impegnata può esserlo per me per chiunque di voi può diventare molto impegnata o addirittura insostenibile quindi bisogna imparare l'arte sempre tra virgolette della sintonizzazione con le percezioni fisiche e quello è sempre un allenamento produttivo più si va avanti con l'allenamento coordinato più i vari tasselli della del condizionamento di una periodizzazione di allenamento vengono integrati assieme più le medie chilometriche migliorano non avete bisogno di guardare dovete diventare in grado dovete essere in grado di riuscire a capire come state correndo senza ogni chilometro continuare a guardarvi questo gps da polso perché quella è una cosa secondaria bisogna imparare a entrare dentro e ascoltare proprio il livello di sforzo detto questo direi che una rapida parentesi sul fartlek si può si può chiudere un accenno ancora brevemente alle altre tipologie di fartlek quindi il mona fartlek archiviato il fartlek corto normalmente si tratta di fare in una dimensione ideale è la pista sprint sui rettilinei recupero in curva in curva per diciamo un minutaggio dai 12 ai 16 minuti una sessione stupenda otto giri in cui si continuano a fare queste variazioni questo il fartlek corto il fartlek lungo invece diventa diciamo 20 25 minuti un minuto in allungo un minuto in recupero mentre e chiudiamo il fartlek a salsiccia si tratta di fare frazioni di allungo consistenti diciamo la tipologia che mi piace di più che va in pratica a simulare delle ripetute sui 400 sono il minuto e 15 in allungo 45 secondi di recupero è l'esatta l'esatto l'esatta comparazione con una sessione di ripetute sui 400 e direi che questi sono queste sono le tipologie di fartlek che utilizzo personalmente ripeto per le varie distanze specifiche e l'allenamento proprio targettizzato sulla distanza poi ci sono miriade di altre opzioni e combinazioni comunque questo è quanto come sempre se avete domande dubbi curiosità scrivetemi nei commenti qua sotto venitemi a visitare i link sempre qua sotto e per adesso vi saluto pollice in su al video se vi è piaciuto l'avete trovato utile e come sempre a bombazza tre applicazioni di afazol di un'ora luna subito scapellato ciao 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 ciao